Mi Casa Mesh Up, pezzo nuovo, che è contenuto appunto nella Bat Edition di Supereroe, come si chiama il pezzo? Monte Carlo Monte Carlo, quindi strofa di Monte Carlo sul beat di Ape Sheet, canzone che hanno portato al successo Jay-Z e Beyoncé Vai Emi E il resto anche Emi Schille, mazza brigante Vai! Yeah! Ah, ah, ehi, vivo negli anni settanta, entro ed esco dalla banca Con dietro tutta la banda, tipo la casa di carta Faccio settimana bianca, anche quando sono in barca Mio fratello testa calda, entra in disco con un'arma Per la strada come in pista, guido come un camorrista Col sedile tutto indietro, me la faccio tutto in retro Quando arrivo sposta le transenne, fammi parcheggiare dietro Sono Mr.Kill, la frate mica sti mister nessuno, tipo Jared Leto Allucinato nel letto, le rocce mi parlano, Fanta Kiro? Siamo più grossi nel gioco, il mio fuoco a Coca Cola, tu Fanta Kino? Siamo ad un altro livello, fra i nostri da tona, contro i vostri cazzi Ho la testa a giro come fosse un carrier, mentre mi cacciano da un altro casino Doppia vita, come Carlo, sempre fresco, Montebianco Me la foto, non le parlo, su una Lambo, Montecarlo Ehi, 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 Montecarlo Ehi, 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 Montecarlo L'ho chiesto a Nerone qualche giorno fa quando ha fatto il suo mashup Punchline preferita? Di questo pezzo? Sì, di questo Sono Mr.Kill, la frate mica sti mister nessuno, tipo Jared Leto Perché qualcuno dice, qualcuno ma quando la si inzette Ma perché è Jared Leto? Guarda che è un bravissimo attore Non hanno capito la citazione Certo che è un bravo attore Cioè, Mr. Nobody, no? È un film di Jared Leto È chiaro